Buonasera e benvenuti ad una puntata speciale di Poetando, perché sarà Poetando il Lombardo. Luigi Balocchi, che è il nostro poeta, ci accompagnerà per diverse puntate, perché ci leggerà il suo Coelet, edito nel 2011. Vero? Che libro è Luigi? Allora, è stata una scommessa, ho voluto tradurre liberamente in Lombardo, in Lombardo è una lingua, prima che è un dialetto, quindi ho voluto tradurre in Lombardo, in specifico nel Lombardo di Bietagrasso, cioè in Bietagrasin, che è un Lombardo specifico, questo libro della Bibbia, che per me è un libro ateo, un libro che parla della sofferenza dell'uomo, così come la conosciamo oggi, con tutto il mondo pieno di cose e senza niente. Grazie.